Il Presidente della Repubblica non può minacciare di andarsene prima dei sette anni del suo mandato perché la Costituzione dice soltanto che il Presidente è eletto per sette anni. Il Presidente della Repubblica non può condizionare la sua permanenza per sette anni al fatto che il Parlamento faccia quello che dice lui, perché non esiste un Presidente a condizione e soprattutto perché il Parlamento non dipende dal Presidente della Repubblica, è libero e sovrano come potere legislativo. Il Presidente della Repubblica non può dire che nel 2014 non si andrà alle elezioni perché se si dovesse sfasciare la maggioranza e se ne dovesse trovare un'altra alternativa è ovviamente suo preciso dovere sciogliere le camere e mandarci a votare anche se fossimo nel semestre di presidenza europea di turno assegnata all'Italia anche perché è già accaduto più volte che durante quel semestre il Paese che aveva in turno, aveva in sorte la presidenza dell'Unione Europea andasse tranquillamente a votare senza alcuno sconquasso. Se il Presidente continua a fare ciò che non può fare per la nostra Costituzione e cioè ad assumersi un ruolo politico proprio per realizzare un proprio programma politico non è più un arbitro, diventa una parte o un supporter di una parte e cioè si assume quel ruolo politico, lo cito proprio testualmente, che lui nel 1991 rimproverò a Cossiga chiedendone le dimissioni. Di tutto abbiamo bisogno fuorché di un napolitano che chiede le dimissioni di napolitano.